Il polpo si cuoce nell'acqua sua stessa Il polpo si cuoce nella sua stessa acqua Può significare che alcune situazioni spinose talvolta si risolvono da sole senza stare troppo ad agire oppure può indicare un metodo di cucina preciso per questo particolare alimento che viene dal mare. Di questo vi parlerò nell'articolo.